L'Onnipotente, Signore Gesù è l'unico uomo nella storia di aver detto di essere la via, la verità e la vita. Ma voi siete venuti a prendere questa benedetta lista del 2 marzo e grazie a Dio sono venute anche oggi un po' di persone in questa bella giornata. È stato letto qui dal Vangelo secondo Matteo intorno alla tradizione degli anziani. Loro parlavano delle mani che erano sporche. Il Signore ha detto che non è ciò che entra di sporcizia, diciamo che sporca l'anima, ma quello che sporca l'anima è quello che esce dalla bocca dell'uomo. E allora è stato dato adesso l'invito di accettare il Signore come salvatore personale. Vediamo se adesso c'è qualcuno di queste persone che ha qualche domanda da fare. Se c'è qualcuno di voi che ha qualche domanda...